... Dal cuore delle giornate professionali del cinema, l'angoletto di accoglienza, appena entrato a destra del Hilton, il grande alberto che ospita la convention, la 39esima edizione della convention, subito ad accoglierci su due bellissimi modelli dell'istituto di vestiti tradotti dal Liceo Artistico Grandi di Sorretto, sempre attento e presente, lo abbiamo lasciato ultimamente alla mostra Villa Fiorentina, Villa Falzoletti, sempre accanto agli espositori, ai tanti artisti che hanno ruotato in quel ciclo di esposizioni, sempre presente e attento a quanto avviene sul territorio. Hanno provato a vestire le live, hanno provato a vestire le artiste, hanno provato a dare con questo saggio, con questi testuti, con questi disegni, un loro approccio al mondo, sia cinematografico, sia come un landmark, a raccare il territorio con la presenza di questa importantissima scuola di grande tradizioni adulte, non solo in Tarsio, ma anche in Tessuto.